Ciao, buonasera, Antonio Caravella, agenzia stampa Italia, relazione Tifo Grifo. Allora, parliamo di questa partita, un punto importante per il Perugia, muove la classifica, allontana anche le squadre dietro, quindi vediamo la partita come mezzo bicchiere, mezzo pieno insomma, nel senso positivamente. Sì, visto la partita, secondo me il pareggio era giusto, un punto per noi, un punto per loro, è stata una partita molto tosta, alla fine non abbiamo preso gol, ripartiamo da qua. Una partita maschia, lo dimostrano le 11 ammunizioni, 12 compresa anche quella dell'allenatore del mister Castori, quindi l'arbitro ha avuto il suo a che fare. Sì, è stato bello, a me piacciono queste partite. Sì, sei abituato a questi tipi di partite. Mi piacciono, sì. Sì, eh. Senti, c'è stato un momento in cui avete creduto di poter vincere la partita? Ma dobbiamo credere sempre perché non sai mai quando avrai l'opportunità di fare gol o è da calcio piazzato o da una ripartenza. Sì, certo, abbiamo creduto, però alla fine non abbiamo fatto gol. Senti, quell'episodio del VAR che hai richiamato l'arbitro, lì avevate pensato che ci potessero essere magari gli estremi per un calcio di rigore? No, allora io ho parlato con l'arbitro e ho detto che o è rigore o è fuori gioco. Poi io non ho visto... Scandano la posizione fuori gioco? Sì, sì, alla fine, però io non ho visto le immagini. Però se hai detto che è fuori gioco, secondo me era fuori gioco. Enrico Fanelli, Perugia Tudetti, Fogrifo, per te è stata una stagione un po' particolare e ora hai ripreso un po' di continuità in campo, insomma. Ti chiedo adesso come ti trovi in questa squadra e come procede l'ambientamento in questo gruppo, insomma. No, ma mi trovo benissimo, mi trovo benissimo con i ragazzi, con il gruppo, ma già dall'inizio, da quando sono arrivato qua, anche se sono stato fuori tre mesi, era difficile per me personalmente, però avevo sempre un rapporto con i ragazzi, sì, non mi allenavo con loro, però ero sempre nello spogliatoio e sono tutti bravi i ragazzi. Mi sa che mi sono ambientato bene. Questo è un campionato di Serie B, abbastanza equilibrato, ma anche difficile, ci sono squadre veramente attrezzate. Te l'aspettavi un campionato di Serie B così? Guarda, il campionato di Serie B è sempre difficile e ci sono sempre sorprese. Ogni anno ci sono sorprese, forse prima di iniziare il campionato, pensi che una squadra sicuramente lotta per la Serie A, alla fine forse va in Serie C o fa play-out. In Serie B, quello che ho capito io in tutti questi anni che ho fatto in Italia, in Serie B non si può sapere mai chi va in A e chi va in C. quindi è sempre un campionato molto competitivo, si dice così. Volevo chiederti la condizione, secondo te, dopo queste due partite ravvicinate, in prospettiva di andare a Bolzano domenica, Perugia è in grado di affrontare quella partita al massimo per cercare di vincere? Sì, come ho detto prima, dobbiamo sempre cercare di vincere, sempre dobbiamo cercare di fare tre punti, poi in corso di partita si vede quello che si può fare e quello che non si può, però sì, secondo me, nella nostra testa è che noi andiamo a Bolzano a provare a vincere, poi prendiamo quello che la partita ci dà.